Come si inizia? Sei tu la performer, io... Hai ragione, dovrei esserlo, ma in realtà c'è del disagio. Ciao, io sono Giulia. Io sono Jacopo. E questo è, per adesso, non sappiamo ancora se sarà il nome definitivo, Zitto e Guarda, un podcast in cui... cosa facciamo, Jacopo? Una cosa mai sperimentata prima, cioè due persone che parlano di film... Ma... Ma con un twist, ovvero Giulia obbligherà me a vedere un film che io non conosco e non so quale sarà fino alla registrazione della puntata e la volta dopo io farò lo stesso con lei. Ovviamente questo, cioè, sarà un po' un delirio, perché io e Jacopo abbiamo dei gusti molto diversi in fatto di film e soprattutto questa è la mia occasione... perché lui non si può tirare indietro, questo è il dettaglio importante, quindi è la mia occasione e è la sua occasione anche per, cioè, costringerci a guardare cose che altrimenti non avremmo mai guardato. Io non vedo l'ora di costringerti a vedere le peggio robe che io ho visto nella mia vita. Neanch'io vedo l'ora, ma sì, abbiamo gusti molto diversi, ma complementa... Cioè... È vero. Armoniosi. Hai ragione. Young e Young. Io sono sempre contento di ascoltare quello che hai da dirmi su cose che non conosco e non capisco, solo che adesso mi tocca capirle e conoscerle, e viceversa io con lei, cioè... Sarà... Almeno... Per me è divertente, per lei è divertente, se lo è anche per voi, tanto meglio. E dagli. Conoscendo il tenore delle possibili scelte di Giulia, mi aspetta... Mi aspetta un percorso interessante, penso. Non lo so. Spero di sì, ma ho fiducia. Ma sì, ma sì. E tu da me cosa ti aspetti, invece? Secondo me per me sarà più facile, perché comunque... Tu comunque hai dei gusti un po' più raffinati, c'è da dire. Ma non è vero. Ma sì. Allora, mi aspetto delle cose che secondo me non mi piaceranno, perché sono quelle robe che tipo ti piacciono da piccolo, e quindi se non le sperimenti da piccolo le vedi da grandi, e poi non hanno lo stesso effetto. Però mi aspetto anche grandi film, un po' trescioni, un po'... Un po' così, questo. Non ti dico niente, però vorrei subito sdoganare il fatto che io non ho gusti raffinati. Io semplicemente sono una persona semplice. Cioè, ci sono cose che si muovono sullo schermo e io rido. È facile, un bambino. Però oggi non siamo qui per me, siamo qui per il tuo film. In realtà sì, siamo qui per te, perché sei tu che devi sperimentare tutto questo. Ah, già. Allora, vorrei prima fare una premessa sul motivo per cui ho scelto questo film, perché in realtà ne avrei scelto un altro. Volevo sceglierne un altro che probabilmente sarà il prossimo che vedrai, ma volevo partire col botto. Dato che questa è la prima puntata che registriamo, forse anche la prima che verrà caricata, chi lo sa, io volevo scegliere proprio un nome importante, un nome importante, prima di dirti il nome di questo film. Quando l'ho riguardato, perché ovviamente volevo fare un rewatch prima, ho preso degli appunti e mi sono scritta delle cose che sono un po' degli indizi, un po' delle cose che tu dovrai capire quando lo guarderai. Quindi io adesso te le dico così, senza contesto. Tu vedi se riesci ad indovinare il film e poi, mi raccomando, segnatele, perché così quando lo vedi, io voglio sapere se tu sei riuscito a riconoscere questi punti che io ti ho detto. Sono già terrorizzato da tutto questo. Che dire? Muovo il foglio per gli appunti, scusa. Questo farà rumore. Non sono digital, ragazzi. Io ho carta e penna. Vuoi partire col botto con un nome importante? Quindi è qualcuno che conosco. Potrei conoscerlo. Potresti, potresti. Mamma mia. Chissà. Sei pronto? Allora, parto da Stranger Things. Oh wow. Lo so, non te l'aspettavi. No, per niente. Stranger Things, cioè siamo già nel nuovo millennio, non me l'aspettavo per niente. Già. Poi, parrucca. Ok. A caso. Generico. Molto generico. Cavalli. In che senso? Cavalli con la parrucca o solo cavalli? Cavalli, in generale. Cavalli. E quigno. E quigno. Poi. Ok. Questa non ti sorprenderà. Taylor Swift. Eh. Dovevo metterla. Dovevo metterla. Com'è possibile Taylor Swift? Io ti assicuro che tutte queste cose insieme hanno un senso. Mi sento uno che decifra civiltà antiche, si trova davanti simboli, all'apparenza non coniugabili tra di loro, ma... Eppure. Eppure. Aiuto. L'ultima cosa, forse è quella che potrebbe darti un indizio, diciamo, più succoso. Ovvero. Sentiamo. Superman è la sua versione etero. No, sono in alto mare, sono assolutamente... Superman è la sua versione etero. Devo dire che Stranger Things mi fa venire in mente qualcosa di adolescenziale. Non penso c'entrino agli anni 80, sarebbe... No. Sarebbe troppo, no. Niente anni 80. Ma, oddio, molto alla lontana, però no, però no. Poi, in un improvviso lampo di genio, penso di riuscire a collegare Parrucca con Taylor Swift... No, scusami, Parrucca con Superman etero, perché la parrucca potrebbero essere gli occhiali di Clark Kent e quindi... Ci stai arrivando, ci stai arrivando. È Anna Montana. È proprio Anna Montana. Credo che fosse Anna Montana. È proprio lei. Oh no. E quindi il film che dovrai vedere è proprio Anna Montana dei movie. Senza premessa, io non ho nessun background di Anna Montana, se non che era Miley Cyrus e una serie su Disney Channel che io non guardavo, perché non avevo Disney Channel. Devo dire che Superman, nella sua versione etero, ora non mi appare così... Oscuro. Oscuro, come... Come metro di paragone, perché... Non so quante vite ha salvato Anna Montana. Anna... Molte, Jacopo, molte. Molte. Ok. Quindi, parlami di questo film di Anna Montana. Eh, il fatto che tu non sappia niente di Anna Montana un attimo però mi... Non mi preoccupa, però praticamente questo film è stato fatto dopo la serie, cioè nel senso la serie era già in onda da un bel po'. Poi c'è stata l'ultima stagione, però questo film è arrivato a serie iniziata, quindi dà per scontate molte cose, cioè ci sono molti personaggi che non è che vengono introdotti perché in teoria tu li conosci già dalla serie, quindi secondo me potrebbe un attimo essere un po' confusionario. Sì, è tipo guardare Avengers Endgame senza aver mai visto un film della Marvel. Sì, sì, però c'è anche da dire che comunque è un film molto stand alone, cioè è facile. Ah, male che è facile. Anna Montana, i temi complessi di Anna Montana potrebbero... In realtà ci sono dei temi molto complessi in questo film, Jacopo. A dualità. Non sottovalutare. Allora, cosa dirti? Perché io non vorrei, cioè allora non ti vorrei ovviamente spoilerare nulla, però non vorrei neanche dirti troppo perché poi, proprio perché arrivi vergine a questa cosa, vorrei proprio lasciarti carta bianca. L'unica cosa che magari ti posso suggerire è che... Cioè ti posso dare un attimo di background sulla lore di Anna Montana, ok? Beh, un minimo. Un minimo. Dimmi almeno di che anno è questo film, quando è iniziato Anna Montana. Ok, Anna Montana è iniziato nel 2006 ed è finito nel 2011. Oh wow, è tantissimo. Ma è tanto... Non pensavo che le serie Disney Channel durassero così tanto. Anche perché i bambini crescono, quindi... Eh sì. Eh, wow. Invece il film è del 2009. Ah ok, quindi a metà praticamente. Io ho una sola domanda a questo punto che mi interessa veramente. Ma questo film è stato diretto dal sommo? Purtroppo no. Purtroppo no. Ah. Non è di Kenny. Questo mi dà un grande dispiacere però. Non è di Kenny, non è di Kenny. Volevo aggrapparmi. Il sommo, per chi non lo sapesse, è Kenny Ortega, regista di High School Musical, che Giulie mi ha fatto vedere poco tempo fa e che penso abbia dato l'idea di questo podcast alla fine. Perché... Penso di sì. Sì, sì, sì. Sì, vedendo le mie reazioni ha detto wow ma... E infatti un po' mi dispiace perché ci siamo bruciati veramente una pietra miliare. Però comunque abbiamo da dare, cioè proprio... Sì, sì. C'è una lista infinita di cose. C'è materiale da cui pensare. Assolutamente sì. Il regista in questo caso è un certo Peter Kelsom, che non so chi sia. Che noi ringraziamo comunque perché... Assolutamente. Ci terrei a ringraziare i registi dei film che vedremo qua perché se no... Che stiamo a fare? Ha fatto lui Peter... Grandissimo Peter. Vabbè, sai tanto Diana... Cioè la cosa Diana Montana importante la sai. Cioè che lei, the best of both worlds, viene da qua. Ovvero lei voleva fare la cantante, voleva diventare famosa. Però allo stesso tempo voleva comunque avere una vita normale perché al tempo era una giovane adolescente e quindi non voleva perdersi tutte le cose della vita normale. E quindi decide di fare l'adolescente di giorno e la pop star di notte. Cioè di notte, tra virgolette. Comunque si divide tra queste due vite. Per farlo appunto decide di mettersi una parrucca bionda. E nessuno la riconosce. Incredibile. Infatti non a caso Superman è un po'... Cioè bastano degli occhiali. In questo caso basta una parrucca e sei a posto. Non importa che lei poi sia tipo una star di fama internazionale, super conosciuta ovunque. Comunque nessuno nella sua scuola si rende conto che è lei. Perché ha capelli scuri e non biondi. Vabbè. Ma poi c'è anche un'altra roba su questa questione. Vabbè adesso magari ne parleremo dopo. Quindi lei, insomma Miley, che nella serie si chiama sempre Miley, ma non Miley Cyrus, ma Miley Stewart. Miley Stewart fa appunto l'adolescente nella sua vita e poi anche la pop star. Ha un fratello, vive in California, però ha origini del Tennessee. Quindi è super country. È un po'... un po' una ragazza country. Ok, sono super deluso perché speravo che almeno Anna Montana... Fosse del Montana. Del Montana. E invece manco questo. No, 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 no. Lei è del Missouri, quindi... No, del Tennessee. Del Tennessee. No, io penso al Missouri, no, del Tennessee. Tennessee. Che Anna Tennessee però non suonava bene. No, effettivamente no, Anna Montana è molto bello. Anna Montana, no. Ci sta. Suo padre, Billy Ray Cyrus, che diventa Stewart, era un noto cantante negli anni Ottanta di musica country, cosa che era anche nella vita. Ah, ma quindi il padre di Miley Cyrus... È Billy Ray Cyrus. Interpreta il padre di Miley Cyrus nella... Sì, esatto. Questa è una ricetta per il disastro. E invece sai che lei aveva raccontato che è stato molto bello, perché poi così aveva il modo di passare tanto tempo con suo padre. Ok, ok. Ma è meglio così, sono abituata a pensare male. No, ma infatti, diciamo, sulla carta non è proprio the best situation. Però è andata bene, quindi dai, è grande. Meno male. So che adesso in realtà non si parlano più, però comunque. Ah, ok. Andato male dopo? Sì, vabbè. Wow. Allora, sì, quindi Miley poi frequenta il liceo, anzi prima le medie, poi il liceo, insomma, perché cresce insieme alla serie. E i suoi due migliori amici sono Lily e Oliver e ha un fratello che si chiama Jackson. Jackson è il tipico fratello di queste serie qua, cioè puzza e stupido. Che puzza e stupido non c'è. Esatto. Non c'è. È simpatico. È molto simpatico. A me piaceva molto Jackson, li volevo molto bene. Però diciamo che è un po' the punchline. E lui lavora in un chiosco sulla spiaggia che è gestito da Rico. Rico è questo bambino super ricco, super antipatico, super cattivo che fa fare le peggio cose ai suoi dipendenti. Ok. Rico, il bambino ricco. Esatto. Diciamo che questi sono più o meno i personaggi principali, poi se ne incontrano altri lungo la strada. Però il fulcro è questo. La vita di Miley, quindi con la scuola, le uscite con gli amici, i primi fidanzati, bla bla bla, è il dover coniugare la cosa insieme all'essere una pop star internazionale. All'inizio della serie, tra l'altro, solo la sua famiglia sapeva di questa cosa, quindi nemmeno i suoi migliori amici Lily e Oliver lo sapevano e quindi lo scoprono man mano che la serie va avanti. Oh wow. E con delle situazioni ovviamente assurde alla Disney Channel, torte in faccia, situazioni molto cringe. Ma posso fare una supposizione selvaggia e dire che probabilmente Oliver è innamorato di Miley o viceversa e invece no? No, no, nel senso che all'inizio lui era super fan di Anna Montana, tipo super innamorato di Anna Montana e quindi Miley aveva molta paura di dirgli guarda sono io Anna Montana, perché aveva paura che questo rovinasse la loro amicizia. Poi in realtà glielo fa scoprire, cercando però di rendere Anna super schifosa agli occhi di Oliver. Tipo, c'è proprio un episodio in cui Oliver racconta che lui... Allora, gli fa schifo che la gente mastichi la gomma, la gomma da masticare, no? Perché sua nonna, quando era neonato, masticava la gomma e una volta gliela è caduta sulla sua faccia e quindi lui deve... c'è questo trauma infantile, ok? Sì, sì. E quindi c'è questo episodio dove Miley si veste da Anna Montana, va a incontrare Oliver tipo sulla spiaggia per caso, ma tipo mastica un botto di gomme, ma tipo tantissime e fa super schifo perché ha anche tutta la bocca sporca. Cioè, è... Ah, va bene. Fa quelle cose così. Disney Channel. Disney Channel. 100%. Sì, e quindi alla fine, insomma, Oliver scopre che in realtà è lei e quindi niente, basta, finisce così. C'è un'altra romance, ma... Non me la puoi dire. Ma no, in realtà nel film non... perché tutte le romance che ci sono poi nella serie e nel film non contano, non servono a niente. Quindi se vuoi te le spoilero. No. No? Ok, va bene. Me ne parli dopo, nel senso... Te ne parlerò, va bene. Voglio capire, voglio vedere, mi stai dicendo troppo. L'ultima cosa che ti chiedo, questo film è uscito al cinema o era un direct to video su Disney Channel? No, no, è uscito al cinema. È uscito al cinema. È una big deal questo. Ah, quindi avremo della fotografia? C'è della fotografia. Wow. Assolutamente sì. Perché se non lo sapete, nei film la fotografia è molto curata. Sempre, a prescindere. Questa è una cosa che va detta sempre. Bella la fotografia. Bella la fotografia. Quindi anche Anna Montana avrà una bella fotografia. No, a parte gli scherzi ci sono davvero delle belle scene. Ok. Che ti fanno un po' capire, ok, avevano dei soldi, ma. C'erano dei soldi. La Disney, qualche soldino, l'avrà avuto. Eh sì. No, ma io poi, cioè, parto prevenuto, sì, ma di solito cerco di comunque di vedere. Non... Ce la metto tutta, ecco. Non voglio poi deludere la fan numero uno qua, che mi sta obbligando contro la mia volontà a vedere. Anna Montana The Movie. Si chiama così? Sì. Anna Montana The Movie. Anna Montana The Movie. Eh, niente, che dire. Secondo me è molto... Allora, è un film molto carino per me, ovviamente. Cioè, lo guardavo quando ero piccola. Tutto questo... Insomma, questa cosa. Però, secondo me, guardandolo capirai anche perché... Non lo so se lo capirai. Vabbè, comunque, io spero che capirai perché ci sono abbastanza legata, anche a livello tematico. Penso di capire dove vuoi arrivare, ma... Ok, ok. Ok, no, no, sono... Starò attento. Ok, e poi ci sono tutta una serie di cose che succedono. Tra l'altro, gli indizi che ti ho dato, alcuni sono proprio delle cose che, cioè, che dovrai trovare nel film, quindi io non vedo l'ora che tu... Collega i puntini. Certo. Vabbè, sono pronto, quindi. Sei pronto? Yes. Posso iniziare questo viaggio nel mondo di Anna Montana. E niente. E niente. Quindi ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. A tra poco. Oliver mi sembra troppo il fidanzato finale di Gideon, il cattivo finale di Scott Pilgrim. Cioè, è lui da giovane. Devo dire che il regista che dice, aggiusteremo tutto in post, fa male. Come montatore video fa molto male. L'introduzione di sto tizio Travis mi ha ricordato un sacco, non so, The Notebook. Cioè, il rallenty, la campagna, la golden hour. Adrevis. Ma che vuoi? Perché c'è Marco Martindale in un film di Anna Montana? Dai, cazzo. Sto volando. Grandissima, Margot. Ma è la nonna, ma è no, vabbè, ma impazzisco, ma... Posso dire che questo cameo di Taylor Swift nel 2024 è decisamente fuori dal mondo. Che cosa è successo? Ah, perché qui faceva ancora country. Ah, il classico scenario da sitcom dove il protagonista deve essere in due posti contemporaneamente con tanto ricambio di vestiti. La televisione. Bentornato. Come è andata? È stato intenso. Ho più cose da dire di quanto credessi. Oddio, sono troppo curiosa. Wow, Anna Montana. Allora, come vi dicevi, effettivamente è stato come essere catapultato in un mondo che non mi riguarda. Ma non nel senso... Non è per me. Non so dove sono. Cioè... È perché devi avere... Cioè, la conoscenza della serie prima. È un po' difficile altrimenti. No, ci sta. Però è stato comunque molto violento come ingresso. No, l'idea di partire col concerto di lei che non riesce ad entrare... Spoiler, ovviamente. Cioè... Vabbè, sì. Come se... Vabbè, cioè... Chi è che non l'ha visto? No, ma anche non l'ha visto lì. Cioè, questo non è che posso parlare a caso. Però lei che non riesce ad entrare al suo concerto è un'idea carina come inizio. E lo dico in senso buono. Anzi, lo dico in tutti e due i sensi. Ci sono delle scene dove si vede molto che questa roba viene da una sitcom in senso buono. Tipo quella dell'inizio, lei che cerca di entrare al concerto. Tutte le baruffe con la sicurezza e la golf cart. E ci sono scene in cui si vede che questa roba è tratta da una sitcom nel senso peggiore del termine. Perché mi sembra che ci siano delle pause per delle risate che non ci sono. Io non so se Anna Montana era una sitcom con le risate registrate sotto. Sì. Ah, ok. Perché a volte c'era quel mood lì. Però a onor del vero sono più le volte positive. In cui questa cosa succede che le volte negative. Ok, allora, prima di tutto, hai trovato tutti i punti che io ti avevo detto con i miei... Come li ho chiamati? Non mi ricordo. Indizi. Indizi, giusto. Li hai trovati? Allora, vabbè, parrucca alla versione non etero di Superman. Le avevamo già capiti. Vabbè, ce l'avevo fatta. Quindi bravo. Cavalli, cosa ti devo dire? C'era questo caro signor Travis, si chiamava, ho segnato. Perché è Travis che quando l'ho visto arrivare ho detto, wow, ma quello è Woody. È lo sceriffo Woody, praticamente. Era molto lui, però biondo. Eh, già. C'è una scena di lui senza cappello, non ne sono sicuro. Credo forse solo una quando vanno al ristorante. Ah. Beh, non l'ho notato. Io me lo ricordo solo col cappello. L'uomo col cappello. L'uomo col cappello, Travis. Mitico. Era lì, è un'ottima eye candy per le signorine e i signorini che apprezzano queste cose, ma ci sta, è un film per teenager. No, molto bucolico, no? Questo è lui che arriva a cavallo nella nostra vita in italiano, The Notebook. Esatto, esatto. Tra l'altro, a proposito che dicevi, no, molto bucolico, cos'era? L'estate scorsa, proprio su TikTok c'è stato il trend, vorrei avere l'estate di Miley Stewart. E c'erano tutti questi montaggi con le canzoni del film e queste scene un po' così, un po' country, bello. Altri, allora andiamo in ordine, gli altri indizi che mi hai dato. Era, vabbè, Taylor Swift, che più che un indizio... Secondo me tu non ti aspettavi questa cosa. No, assolutamente, pensavo una cosa, ci fosse una reference. E invece... Sta diventando famosa come Taylor Swift. Invece no, per chi non lo sapesse, a un certo punto arriva Taylor Swift, è stato come guardare in una macchina, cioè in una macchina del tempo, nel passato, perché c'è questa scena incredibile dove c'è una raccolta, una serata di raccolta fondi per la cittadina e sul palco arriva a cantare Taylor Swift. Ed era... immagino fosse famosa nel 2009, come adesso, però... Fosse famosa, però non penso che oggi farebbero una scena del genere dove a un certo punto l'inquadratura stacca da Taylor Swift per diversi minuti alla volta. No, credo, credo di no, credo di no. Tra l'altro, dato che abbiamo preso l'argomento Taylor, c'è una lore, una lore estesa su tutto questo, perché praticamente il nostro Travis, l'attore che interpreta Travis, è stato poi dopo, anche nel video, in un video musicale di Taylor Swift, infatti lui è stato uno dei vari flirt di Taylor, ed è stato proprio nel video di You Belong With Me, con cui lei ha vinto il famoso VMA, per cui poi Cani è salito sul palco, quindi c'è tutto in giro, è tutto partito da Anna Montana dei Movie. Incredibile. Incredibile. Tra l'altro, credo che se oggi Taylor Swift partecipasse a un evento di raccolta fondi in una cittadina di 600 persone, destabilizzerebbe sia l'economia che il paesaggio, probabilmente. Sicuro, è molto probabile. Non si può più fare, questo è un evento che non è ripetibile. Nope. Quindi è arrivato proprio Taylor Swift, ma in realtà l'indizio che mi ha fatto più ridere è stato Stranger Things, perché anche qua c'era un'attrice di Stranger Things, Natalia Dreyer, mi sembra. Esatto. Ok. Che interpreta Nancy, l'ho riconosciuta solo alla fine, perché c'è in due scene, e a un certo punto ho detto, ah ma ci assomiglia, poi nell'ultima età Anna è proprio lei. È proprio lei. Ed è piccola piccola, e questa cosa mi ha scioccata perché io me ne sono accorta tipo dopo anni che era lei. Sì, cioè non che fosse grande in Stranger Things perché aveva tipo 23 anni. No, no, però qua è proprio, avrà 12 anni credo, una roba del genere. Non lo so. Bellissimo. Cose che non ho capito. Vai. Non aveva due migliori amici? Eh sì, sì, esatto. E uno se lo so scordato, cioè ci stava sul cazzo. E Oliver hanno detto vabbè. Oliver, vabbè, ha questi capelli brutti e ha detto niente. Ha sempre avuto i capelli così Oliver? Sì. Poverino. Sì, sì, sì. Allora, è stato quel periodo buio che è andato da, cosa era, il 2004, tipo, fino a 2010, no, forse anche un po' oltre al 2010 che c'era il capello Disney Channel, no? Cioè tutti avevano quei capelli lì ed era così. Anche Zac Efron effettivamente. Però lui era sudato, quindi c'era un motivo. Nei film Zac Efron era sudato, quindi lo ricollegavo a quello, vabbè. Ma questa è un'altra storia. Altre cose che non ho capito. C'è tutta questa sottotrama della giornalista cattiva che vuole pubblicare cose, che è lì, succede... È tipo un villain che dovrebbe essere un villain, ma... Ma c'era nella serie o anche... No, 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 tutta questa parte non c'è, ma neanche la pubblicista si chiama, la sua PR, la tipa che segue, ma non si era mai vista prima di adesso. Quindi altra domanda che sorge spontanea perché qualcuno rimarrà deluso, ma non andrò a vedere il resto di Anna Montana dopo... Eh, vabbè, non so, incredibile, incredibile, ma non sono convinto. Travis se lo portano appresso nella serie o anche lui... No! Niente! Va fantastico, pazzesco, vabbè. Praticamente tutto quello che succede in questo film nella serie non viene minimamente calcolato, tranne forse il fatto che lei è di nuovo un pochino più legata alle sue origini del sud, ok? Sud America. Esatto. Ah, no, sud degli Stati Uniti ancora più. Perché le origini del sud sembra che... Ah, no, e le vracchiette. Il caciocavallo. Forse solo questo, perché tutto il resto è molto stand-alone, quindi è un po' un ibrido questo film, è molto strano, perché secondo me voleva, cioè, voleva essere una roba fatta sia per chi non ha mai visto la serie, sia per i mega fan della serie, e quindi è questo connubio un po' strano, cioè è venuta fuori questa cosa ibrida strana. Da un lato mi chiedo, per chi era fan della serie, quanta voglia avevate all'epoca di spendere tutto quel tempo in Tennessee e non nelle solite cose di Anna Montana. Lo chiedo perché non lo so. Io a un certo punto, non ho sofferto questa cosa, però mi chiedevo, era sempre così doppia? Non andava mai in Tennessee, nella serie? Allora, aspetta un attimo che c'è il gatto che sta facendo un bordello. Giulia in questo momento sta parlando con il gatto che non le risponde. Comunque, allora, no, in realtà nella serie c'era molto questa componente, forse ci sono degli episodi dove torna a casa, adesso non mi ricordo nello specifico, però comunque lei, cioè, ha sempre un po' abbracciato questo suo mood un po' sud, anche perché anche Anna Montana stessa la vestiva, no, tipo con i cosi, come si chiamano, gli stivali da cowboy. Questo me lo ricordo vagamente nelle pubblicità, sti pantaloni a zampa di elefante. Esatto, esatto. Comunque un po' c'era questa cosa. E in generale c'erano anche un po' di richiami a quella cultura lì, tipo, nella serie la madrina di Miley è Dolly Parton, che però, cioè, lo è anche nella vita vera, no? E quindi hanno preso questa cosa, esatto, hanno preso questa cosa e l'hanno messo nella serie, quindi ci sono, sai, queste robe qui. No, io sono molto allibito da questo, Dolly Parton, vabbè. Sì, la mitica. Incredibile Dolly Parton, che salutiamo. Zia Dolly, la mitica Zia Dolly. Ci spendono un sacco di tempo e, non lo so, per essere una serie che punta molto sulla musica, Anna Montana immagino, nel film ecco, questa è una cosa che mi ha deluso molto in realtà, devo dire, c'è poca musica e quella che c'è, a parte una volta, non è che m'abbia... Ok. Vabbè, The Climb la conoscevo grazie a te, bella, sempre, però ho preferito molto di più, per esempio, il numero che fanno lì, che fa lei nel... nella raccolta fondi dove ballano questo misto fra hip-hop e country, quello è molto bello. È bellissimo, su Disney Channel tra l'altro facevano anche i video per imparare la coreografia, io la so ancora oggi. Oh wow. E ne vado molto fiera. Voglio vederla questa cosa. Buongiorno. Ti manderò un video. No, però in realtà... Che io farò lì cara. No, 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 dai, su, su. No, 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 assolutamente. Cosa stavi dicendo? No, è appunto che la cosa del Tennessee in realtà poi viene ripresa nell'ultima stagione perché loro si trasferiscono. E tornano in Tennessee? No. Cioè adesso, adesso sai che ho tipo un vuoto e non mi ricordo precisamente, forse sì comunque. Tu non ti ricordi qualcosa, Giulia? No, io non mi ricordo mai niente, raga. Ma veramente non è possibile questa cosa. No, però allora, praticamente tutta la serie è ambientata a Malibu, cioè loro hanno questa casa a Malibu e in generale vivono là. Poi nell'ultima stagione c'è tutta questa questione del tornare a casa, essere più legati a la vita in Tennessee e bla bla bla. Lei che vuole di nuovo avere blue jeans con sé, che sarebbe il suo cavallo. Il cavallo. Quando hanno detto che si chiamava blue jeans. Blue jeans. Esatto. E quindi alla fine prendono una nuova casa, dove hanno anche la stalla per blue jeans, e tutta l'ultima stagione è ambientata in questa nuova casa. Adesso io non mi ricordo se questa nuova casa era in Tennessee, oppure era semplicemente un'altra casa un po' diversa che però, cioè, ho questo vuoto. Però comunque questa roba del tornare a essere legati alla propria terra, eccetera, eccetera, c'è tantissimo. E quindi, niente, secondo me volevano fare un po' questo gancio per poi chiudere la serie con questa cosa. Ma infatti, perché l'altra cosa che mi sembrava, è quasi un finale questo film, volendo. Sì. Poi immagino che sia andato da Dio, hanno detto, no, col cavolo che smettiamo di mungere questa mucca, sempre per una metafora del Tennessee. Me lo immaginavo come un finale, anche perché lei rivela la sua identità, però tengono il segreto, che a quanto pare non c'era stampa da nessuna parte quel giorno. Ma questo va bene. Allora, ci tengo a sottolineare che questa non è assolutamente una critica, non mi sentirete mai dire la parola buco di trama, queste cose, non mi interessa, cioè, era solo una roba buffa che effettivamente... Ecco, ma a proposito del segreto, cioè, adesso, apriamo un attimo questa parentesi che ho un po' accennato all'inizio. Però, allora, abbiamo detto che il padre di Miley Stewart, nella serie e nel film, è Billy Ray Stewart, che è conosciuto per essere un famoso cantante, che era molto famoso negli anni Ottanta, di musica country, un po' come lo era effettivamente Billy Ray Cyrus. Che però nella serie chiamano... Com'è che lo chiamano? Nella serie lo chiamano Robbie Ray, nel film. Sì, 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 è Robbie Ray, scusami, no, è Billy Ray, Robbie Ray. Ero molto confuso per tutto il film. No, hai ragione, hai ragione. È una roba del doppiaggio. No, 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 è che effettivamente si chiama Robbie Ray, ma io lo chiamo Billy Ray, perché è il suo nome. Cioè, ti confondono un po', Miley, Stewart, Cyrus, insomma. Vabbè, comunque... Aspetta, finisco. Una cosa che non abbiamo detto è che, a seconda delle occasioni, guarderemmo i film o in lingua originale o doppiati. Giusto. In questo caso l'ho visto doppiato perché volevo avere la real experience di Julie quando ha visto per la prima volta questo film. film, perché a 13 anni non penso tu guardassi i film in lingua originale, ancora. No, no, direi di no. E quindi ho fatto così. Potete non essere d'accordo, non ci interessa. Andiamo pure avanti. Ma sì, a seconda del feeling si guarda o doppiato o in lingua originale. Ma dimmi tutto, non ti voglio tutto. No, allora, la questione era, il padre di Miley, ok, Billy Ray Cyrus, nella serie Robbie Ray, mi sono sbagliata perché tra Billy e Robbie, insomma, qua è tutto un casino. Difficile, esatto. Effettivamente è molto difficile. Sì. Allora, lui è noto per essere stato appunto un famoso cantante negli anni Ottanta di Musica Country. Nella serie stessa, cioè questa cosa è canon, ok, è proprio Robbie Ray a scrivere i testi delle canzoni di Hannah Montana, cioè tipo loro lavorano insieme, ok. Ok. Però, cioè, lui, allora, Robbie Ray quando è con Hannah Montana si mette dei baffi. E io, cioè, io mi chiedo, però il punto è, se lui è la stessa, cioè non è che lui cambia, non è come Hannah Montana, no, perché, cioè, Miley e c'è Hannah, lui è sempre lui che sia con sua figlia o con Hannah Montana, tra virgolette. E come fa la gente a non fare due più due? E soprattutto, come fa lui, cioè, le persone che lo conoscono, no, come fanno a non chiedersi ma perché lì hai i baffi? E l'altro giorno che l'ho vista al supermercato non ce li aveva. È una roba tipo alla Spy Kids, Gregorio c'ha i baffi quando è una spia e non ce li aveva, cioè, capito, non... Però sta cosa... Però funziona, quindi chi è lo stupido? È vero, però io me la sto sempre chiesta sta cosa perché non aveva senso, però forse è meglio così? Cioè, non lo so. No, sicuramente è meglio così per lui. Mitico. Tra l'altro la più grande pop star della sua generazione non ha i soldi per aiutare sua nonna a fare qualcosa, mi ha fatto molto ridere anche questo. Giusto, è verissimo. Però ha dovuto fare il pasto, scusate, ha dovuto fare il concerto, il pasto, che pensavo a quella scena con l'Era Ghost, ecco, quella veramente... Alla scena dell'Era Ghost. No, scusatemi, non ce la faccio, cioè, non il fatto che lei debba andare da una parte all'altra con le sue due identità, quello ci sta, era proprio la cosa dell'Era Ghost che non ho capito. Allora, secondo me quella è una roba alla Disney Channel, è quell'ironia un po' slapstick. No, no, ma fanno ridere le cose in sé, è che non è collegato a niente, ci sono le aragoste, va bene, non... siamo in Tennessee, come si è detto, c'è una bistecca di manzo, vabbè, capi, cioè, no, ho fatto... Ma sai perché, perché secondo me, tipo, allora, mischiano molto il sud, perché sai che ci sono anche gli alligatori, ed è una roba più alla Louisiana, no? Eh sì, o California. Esatto, secondo me hanno fatto un po' un mischione del sud degli Stati Uniti, hanno detto, vabbè, questo è il sud, ci sono gli alligatori, le aragoste. Un minuto di silenzio per il fratello di Anna Montana, che in questo film viene, penso anche nella serie, venisse picchiato e malmenato da chiunque, in questo film viene sbranato da un alligatori, ma poi sta bene, quindi anche lì, eh, gente del sud, c'è la scorza perché devo dire, sarà quello che... Sui bambini che ridono, è stata una scena incredibile. Lo so, anche io quando l'ho rivista l'altro giorno, ero tipo, questa cosa è molto violenta. Esatto. O no? Qualcuno pensi ai bambini? Esatto, ero tipo, ma perché? Siamo invecchiati. Sì, mamma mia, me ne rendo conto da ste cose. Te lo scrivevo mentre guardavo, che 2009 era tipo 700 anni fa. Incredibile. Rip 2009. Rip. Ci mancherai. È stato un bell'anno, devo dire. Altra cosa che mi ha fatto molto ridere, vabbè, Anna Montana contro Tyra Banks. La catfight. Sì. Iconica, iconica. Immagino. C'era bisogno, anche perché Tyra Banks aveva sei volte l'età di Anna Montana in quel momento, però hanno detto mettiamo contro Tyra Banks e Anna Montana, perché no? Perché no? Tyra Banks ha detto di sì, è stato un momento. La direttrice del giornale, scandalistico, che dice voglio mettere in prima pagina, l'ho segnato, cos'era? La favolosa e immorale vita di Anna Montana. In base a cosa? Non si sa. È immorale questa vita? Non si può sapere. Eh, le cose scabroni. Però era il 2009, sta ragazzina aveva i tacchi alti, quindi sarà stato quello. Immagino. Molto probabile. Tra l'altro, non so, è una futura reference, cioè una reference al contrario? La scena dove lei dà da mangiare le galline sulla corta ha ispirato Breaking Ball, secondo voi? Chi può dirlo? Non lo sappiamo. Ti giuro, ho pensato la stessa identica cosa l'altro giorno quando l'ho riguardato. Ero tipo, oddio. Qualcuno mette a confronto le scene e scopriamo questa cosa. Altra cosa che mi ha fatto super ridere, in questo film c'è Gertie Giggles, l'attrice che fa l'amica di Anna Montana è Gertie Giggles, che è una dei personaggi di Spy Kids, che io e Giulia amiamo molto. Questa cosa mi ha scaldato il cuoricino, ho detto, ma quella è Gertie Giggles, fantastico. È proprio lei. Sì, Lily. Lily ha quattro scene. E vabbè. Ci va bene lo stesso. No, un'altra cosa bellissima è stato vedere Margot Martindale, che per chi non la conoscesse è un'attrice, come lo definiamo, una caratterista. Un caratterista è un attore che fa più o meno ruoli sempre uguali a se stessi, perché sono molto bravi. Vedi, non lo so, all'inizio della sua carriera Clint Eastwood è un caratterista, lo è Tiano Reeves con i ruoli d'azione, cose del genere. J.K. Simmons. J.K. Simmons con i ruoli da cattivone, stronzo, bla bla bla. Tom Cruise. Vero. Adesso, di più. Una volta era più... Vabbè, comunque. Vero. Margot Martindale fa sempre la vecchia signora del sud, a volte la nonna, a volte la mamma, a volte la zia, però quello è il suo ruolo, burbera, ma dal cuore d'oro. E niente, io l'amo molto. Non da sempre l'amo da quando lei ha fatto dei gran cameo in Bojack Horseman. Ah, non lo sapevo. E viene chiamata Character Actress Margot Martindale, sempre. E va in nessun altro modo. Ed è così Character Actor che per un ruolo comincia a essere una criminale e per tutta la serie ci sono delle gag dove lei è ricercata. Ma cosa? Ha avvistata Character Actress Margot Martindale. Oddio. Quindi ho amato, cosa devo dire. Anche lei è poi classica signora del sud, esiste un solo re quando le regalano il piatto di Elvis. Che altro? Mi ha fatto molto ridere quando il padre di Miley dice forse dovremmo farla finita con Anna Montana e io per un attimo ho pensato che parte del film sarebbe stato dedicato alla finta morte del personaggio Anna Montana in modo che Miley potesse essere libera. Non è stato così e sono deluso da questo. Perché sarebbe stato molto interessante sparire nel fuoco della gloria dei suoi 13 anni. Avrebbe venduto un sacco di dischi, ma... E soprattutto sarebbe stata un po' come il signor Elvis citato prima o Michael Jackson, un po' quell'aura di mistero, no? È morta veramente? Oppure si nasconde alle Hawaii? Hanno fatto anche la gag della finta Anna Montana quando la sua amica arriva in aeroplano con la parrucca. Sembrava tipo, no, Paul is dead dei Beatles, tutta quella roba, li avevano i doppioni, le finte star, no? Invece mi ha fatto anche molto ridere vola solo da ovest a est col suo aereo. Non so perché, è simpatica come Kobe le immagino, lei col suo aeroplano che vuole volare solo verso ovest. Anzi no, verso est. Non so la geografia. Non ti dico che mi è piaciuto tantissimo, non mi è dispiaciuto tantissimo, speravo di più nella musica, perché ripeto, quel numero, quello country, tutta la coreografia lì era molto carino. Speravo ci fosse più di quella roba, visto... Forse mi aspettavo un po' più di High School Musical, ma questo film non è diretto da Kenny Ortega, quindi il sommo... il sommo si fa sentire la sua mancanza. Ora, domanda, quante stelle daresti a questo film su Letterbox? Perché ovviamente lo devi mettere su Letterbox. Non lo so, sono ancora indeciso, perché è tra un due e mezzo o tre per me. Wow, pensavo di più. Eh, sto pensando, perché sto pesando ancora un po' questa cosa... Io volevo più numeri musicali, cioè io non sono uno che odia i musical, però questo non è... Ecco, non è abbastanza musical per una serie su una pop star, secondo me, almeno. Pur sapendo che non so niente della serie in sé, a parte le basi. ballavano molto e cantavano molto nella serie. Non tantissimo, non tantissimo. C'erano magari più canzoni, perché c'erano gli stacchetti tipo ai concerti di Anna Montana, però non è mai stata musical musical come magari High School Musical. Ok, allora forse erano le aspettative mie, un po' traviate da questa cosa, perché ci sta, ci penserò. Mi è piaciuta Miley Cyrus in generale. Cioè, allora, Miley Cyrus attrice, il personaggio di Anna Montana, nei primi tre quarti d'ora, è insopportabile. Cioè, non la reggo, veramente. Antipatica. Rovina la festa alla sua amica, è una VIP. Quindi questo. Però Miley Cyrus effettivamente c'ha tutta sta... È brava, come si dice, come dicevi tu, nello slapstick, è molto fisica, fa molte mosse. È vero, molto. Marco Martino è bravissima. Travis. In realtà saprei anche il nome dell'attore, perché l'ho visto tipo in X-Men, può essere. Ha fatto X-Men le origini, credo. Può essere, non mi ricordo. Vabbè, però insomma, è bionda, gli occhi azzurri, bravissimi. Mi chiedo che accento abbia nella versione originale. È vero, ma non ci avevo pensato a questa cosa. Effettivamente a vederlo in originale per vedere gli accenti. Ti ha cambiato la vita questo film? Non lo so, dimmelo tu. Ma a me sicuramente sì. Ecco, infatti, dicci un po' di questo, voglio dire. Io posso parlare solo col senno di poi, cioè non sono proprio il target, ecco. Io non l'ho visto al cinema, ma l'ho visto poi dopo quando l'hanno dato, penso su Disney Channel, o forse l'ho visto su Sky, insomma, comunque l'ho visto in TV. Nel 2009 ero proprio in quel periodo di transizione, perché stavo iniziando a smettere di guardare Disney Channel, anche se ho smesso poi qualche anno dopo. Però ero lì, no, in quel limbo, in cui dici, forse sono un po' troppo grande per questa rama. Però mi piaceva comunque tantissimo, e mi ricordo che ovviamente ero ossessionata perché, perché mi piaceva tantissimo Anna Montana, anche se non era la mia serie preferita quando ero piccola, ma era i Maggie di Waverly, mi dispiace, io sono sempre stata una Alex Russo girl. Però ecco, sto film è figo, secondo me, per un fan, perché ha tutti gli elementi della serie, quindi appunto le cose stupide che fanno ridere un po' tutti i vari personaggi che ci sono anche nella serie, quindi le varie relazioni tra di loro, eccetera. Però dura molto di più di una puntata, e quindi da questo, quando sei piccolo, tipo, uhuh, grande vittoria. E poi ci sono un sacco di ambientazioni fighe, i vestiti sono fighi, cioè, almeno io quando ero piccola, una cosa che mi faceva prendere bene dei film era proprio l'estetica, no? Quindi quanto era bello, come si vestivano, quindi oddio, devo assolutamente comprarmi questa maglietta, perché devo essere come Miley Cyrus. Cose ovviamente molto superficiali, però quando hai, boh, 13 anni, insomma, è quello. E quindi mi piaceva tantissimo. E poi effettivamente sta cosa dell'essere un po' fiero di essere uno di campagna, io che sono una ragazza di campagna, ho un po' vissuto anche sulla mia pelle questa cosa, no? Quando poi ti trasferisci fuori, quando sei un po' fuori sede, poi torni a casa e all'inizio hai sempre questo un po' amore-odio. E quindi sono legata un po' anche per questo. Cioè sicuramente è una cosa che ho percepito poi da più grande questa, quindi per carità, cioè non facevo questi grandi ragionamenti a 12 anni. Però riguardandolo poi con il senno di poi, con tutte le esperienze da adulta, devo dire che mi piace questo aspetto qui. Sarò sincero, non l'ho percepito così tanto come forse il film vorrebbe, perché appunto secondo me perdono un po' troppo tempo su cose che non servono alla storia, tipo il giornalista che cerca di scoprire il segreto di Anna Montana, ho capito perché è lì, però non ha un peso nella... ci sono delle gag e non ha un vero peso nella storia. E tu dici, vabbè è un film di Anna Montana, chi se ne frega, però non vuol dire che non potesse essere fatto un po' meglio, secondo me. Sì, no, allora concordo sicuramente, cioè questa cosa è verissima, però alla fine devo dire che, cioè appunto per essere un film per preadolescenti alla fine, secondo me è fila, perché ha un po' di cose magari tra virgolette un pochino più, no, pensate, profonde, tra mille virgolette, e poi le cose invece più leggere. Hai ragione, e guardandolo posso dire, magari non ho apprezzato, ma ho capito perché questa roba ha avuto il successo che ha avuto anni fa. Continua a non piacermi particolarmente Anna Montana, però guardandolo almeno puoi avere l'onestà intellettuale e dire, ok, ho capito perché questa roba era quello che era all'epoca, perché piaceva un sacco di gente. Cioè ci vede, cioè è una star, è una star Miley Cyrus. No, si vede, cioè è tutto su di lei, regge tutto. Sì, sì, lei Miley poi è davvero, cioè per me è perfetta in questo ruolo, anche perché è un po' cucito sulla sua vita, effettivamente. Quindi, ok, però proprio brava, cioè regge tutto, cioè regge Hannah, regge Miley, bravissima a cantare, comunque una brava attrice, secondo me, per quel genere poi, ovviamente, e quindi, dai, grandissima. Quindi devo ritrattare una cosa che ho detto prima, non guarderò Anna Montana la serie, ok, guarderò il primo episodio, giusto perché sono curioso di vedere come si giocano, come gli è venuta l'idea. Non l'ho mai vista, immagino ci sia un momento in cui lei finisce per sbaglio con una parrucca a cantare da qualche parte, suppongo sia questo l'inizio, se non è così non dirmelo, voglio scoprirlo da solo. Non dirò niente. Sono curioso solo di questa cosa, poi mi spiace, no, però ci sta. Ok, ok. Però allora dovrei aggiornarci perché io voglio assolutamente sapere poi che cosa ne pensi. Quindi, abbiamo finito il nostro primo episodio, wow. Oh wow. Oh wow. È stata un'esperienza, dai, puoi dire. Per me assolutamente, sì. Ho investito questo sabato nel vedere Anna Montana e non sono una persona nuova, ma di sicuro so una cosa in più e questo è il bello dei films, se vogliamo. È vero, è vero. Allora, io sono curiosissima poi di sapere cosa mi farei vedere tu prossimamente, quindi il prossimo episodio sarà magico. Lo scopriremo. Aiuto, aiuto. E nulla, quindi, grazie mille a chiunque ci abbia ascoltato a questo punto. Speriamo di avervi fatto ridere, di avervi fatto scoprire un film nuovo da vedere. Speriamo di avervi fatto riscoprire un film che avevate già visto e a cui non pensavate dal 2009, probabilmente. Anche, anche vero, no, però secondo me chi lo ha visto ci pensa tutti i giorni. Cioè, il tuo impero romano qual è? Se non Anna Montana dei movie. Parole dure. Parole dure. Diteci se siamo stati bravi. Sì, quindi feedback, vari, grazie, molto graditi, in modo gentile perché comunque siamo entrambi delle persone sensibili. No, no, io voglio che ci distruggiate. voglio sapere tutto ciò che non va. Come? È vero. Solo complimenti. Solo complimenti. No, non è vero. Vogliamo però un feedback per sapere cosa potremmo fare di Meg. Yes. E cosa vi è piaciuto anche perché sono... Sì, 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 sì. E nulla, quindi boh, grazie mille, grazie Jacopo per esserti prestato insomma a vedere questo film. Grazie Giulie per avermi consigliato questo film. E nulla, vi salutiamo. Ciao, ciao. A presto. Ciao, ciao.